Chi sono le anime viventi? Sono persone di grande fede, spesso donne umili, semplicissime, che hanno offerto la loro vita al Signore come sacrificio personale e hanno accettato la vocazione di prendere su di sé le drammatiche sofferenze che altrimenti sarebbero già toccate all'intera umanità. Quelle di cui conosciamo i nomi sono poche, si tratta soltanto di chi ha avuto esplicitamente il compito di descrivere quanto viveva e di lasciare memoria delle profezie ricevute. Ma è davvero la punta di un iceberg, poiché sono tuttora numerose le anime che nel più profondo nascondimento vivono questa esperienza di donazione. La maggior parte delle anime vittima ha ricevuto le stimate della passione, cioè le cinque ferite alle mani, ai piedi e al costato, inferte a Cristo durante la crocifissione. In maniera visibile, con vere e proprie piaghe, oppure invisibili, percependone unicamente il costante dolore. Per esempio, padre Pio da Pietrelcina ebbe quelle invisibili per ben otto anni, fra il 1910 e il 1918, mentre per gli ulteriori 50 anni di vita sperimentò quelle visibili. Fra le principali mistiche stigmatizzate ci sono state le italiane Luisa Piccarreta e Natuzza Evolo, le francesi Marie-Julie Jeuny e Marthe Robin, la tedesca Caterina Emmerich, la polacca Faustina Kowalska, l'argentina Gladys Herminia Chiroga de Motta. Una caratteristica che accomuna molte anime vittima, fra le quali ci sono diverse protagoniste di apparizioni mariane, è quella di aver ricevuto delle premonizioni di eventi che sarebbero accaduti nel futuro. Le profezie hanno la funzione di mostrare che i messaggi ricevuti dalle anime vittima provengono realmente da Dio, consentendo una verifica immediata della effettiva realizzazione degli eventi che vengono preannunciati. Già la protagonista di quella che viene considerata la prima delle manifestazioni mariane dei tempi moderni, Caterina Labouret, nella Parigi di metà 800, ascoltò la Madonna dirle «Vi saranno vittime nel clero di Parigi, Monsignor Arcivescovo morirà» e Caterina percepì che ciò sarebbe accaduto dopo una quarantina di anni. In effetti, nel 1871, l'Arcivescovo parigino Monsignor Georges d'Arbois venne fucilato dai rivoluzionari. Nel 1846 i pastorelli Melanie Calva e Maximin Giraud ebbero sulla montagna di La Salette la premonizione che ci sarebbero stati eventi drammatici per le coltivazioni locali. Nel 1847 si segnalarono in Francia problemi per il grano, le noci, l'uva, le patate, con la conseguenza di una gravissima carestia. Luisa Piccarreta, agli inizi del Novecento, previde le guerre tra Russia e Giappone e la successiva guerra mondiale e preannunciò i terremoti di San Francisco, di Reggio Calabria e l'eruzione del Vesuvio che accaddero negli anni seguenti. Bruno Cornacchiola, il veggente romano delle Tre Fontane, definiva «sogni, segni» le visioni che riceveva. Fra l'altro ebbe la premonizione della guerra in Israele nel 1973, dell'assassinio del politico italiano Aldo Moro nel 1978, dell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. In ogni caso, il senso di tutto questo lo ha chiarito su Lucia di Fatima. Non diciamo che è Dio che così ci castiga, al contrario, sono gli uomini che da se stessi si preparano il castigo. Dio premurosamente ci avverte e ci richiama al buon cammino, rispettando la libertà che ci ha dato. Perciò gli uomini sono responsabili.